Sullo stato di salute degli autovelox e delle tangenziali di Padova, l'opposizione in consiglio comunale corre veloce. Avuto il sospetto che fossero guasti, inattivi o non tarati correttamente, ha rincorso gli atti dei contratti di manutenzione per scoprire che la giunta Giordani Ha fatto il famoso peso del tacone del buso, nel senso che hanno dato in pratica 500.000 euro a APS e quindi poi le aziende collegate per la gestione degli autovelox, quindi pagando l'ultima tranche. Ma se gli autovelox non hanno funzionato, perché noi abbiamo pagato quest'ultima rata di tranche? Prima domanda. Seconda, non si poteva fare una gara, non si poteva fare un bando visto la cifra consistente? Perché continuare a insistere? E oltretutto, perché non ci siamo rivarsi sulla società qualora gli autovelox non funzionavano e teoricamente, come ogni buon contratto, ci sono sicuramente previste delle penali, dei tempi di risposta, della sostituzione degli eventuali apparecchi che non funzionano? Una volta pagato il dovuto a chi deve farne la manutenzione, ora tutti si aspettano che gli autovelox funzionino bene. Beh, oggi in realtà non funzionano, ci sono due autovelox sperimentali che anche su questi non ci vedo chiaro, infatti sarà la terza puntata perché dobbiamo approfondire e capire cosa sta accadendo. Per Luciani la situazione è andata sempre più fuori controllo e non si sa se il sindaco, che ha la delega alla polizia locale, sia mai stato messo al corrente. E i cittadini possono andare avanti a non sapere se gli autovelox funzionano e se hanno preso una multa ingiustamente non gli resterà che fare ricorso. Grazie.